da possibile assente a protagonista indiscussa delle prime puntate di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Passano gli anni, ma Gemma Galgani continua ad essere un punto fermo del dating show di Maria De Filippi, oltre che una delle dame più popolari del programma. In questa settimana la Galgani è finita al centro studio, soprattutto per la sua frequentazione con Valerio Iervolino, arrivato in studio per lei, e che sembrava prendere davvero molto la dama torinese. Alla fine però il cavaliere si è mostrato piuttosto frenato, e la mancanza di un bacio è finita al centro dell'attenzione. A prescindere dai tentativi forzati di Tina, alla fine non c'è stato nessun bacio tra i due, e Gemma, visto il compontista o il comportamento di Valerio, ha deciso di chiudere. Nonostante i suoi tentativi, la Galgani si è mostrata piuttosto decisa. Avrà fatto bene. Intanto sul web pare sia emersa una particolare segnalazione proprio riguardante Valerio. Il web è sempre molto attento ai dettagli presenti sui social, e così non è passata inosservata. Dopo il suo arrivo nello studio di uomini e donne, una particolare foto di Valerio in compagnia niente poco di meno che con Giorgio Manetti, storico ex fidanzato proprio della Galgani. La foto che circola sul web risale a diversi anni fa, e non è dunque rilevante, per giudicare la recente presenza di Valerio, al programma di Canale 5. Ma molti spettatori sono comunque rimasti sorpresi del fatto che, di questa sua conoscenza, Valerio non abbia fatto mai menzione durante la sua permanenza al dating show. Cosa succederà? Stando alle anticipazioni emerse sul web, e riportate come al solito dall'esperto del programma, Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere ha avuto una nuova chance per uscire con la dama torinese, ma le cose con Gemma avrebbero preso una piega inaspettata, infiammando la situazione. A quanto pare, infatti, c'è stato un forte litigio tra i due, e tra l'altro, la Galgani ha avuto modo di affrontare anche la questione della sua conoscenza con Giorgio Manetti. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, sembra proprio che ne vedremo delle belle.